Danilo Verruso, Presidente dell'Associazione Culturale Oltrevigata, oltre che essere il nostro collaboratore aspirante pubblicista, ma in questo caso sei qui per annunciare che sabato prossimo consegnerete al Comune di Portembedocle, quindi alla Gitanza di Portembedocle, il defibrillatore che avete acquistato con i vostri fondi. Sì, nello specifico con i fondi della terza edizione della Lotteria Inbedoclina. Per questo mi preme intanto ringraziare tutti coloro quali hanno comprato il biglietto, ne abbiamo venduti in 1992, ci hanno permesso non solo di realizzare la Fiera delle Associazioni Un Libro alla Volta, la sesta edizione, ma anche di acquistare questo importantissimo strumento che adesso è anche obbligatorio per i comuni, che spero non si debba mai utilizzare, però sicuramente potrà salvare delle vite umani. Due informazioni. La prima, dove verrà allocato il defibrillatore e a che ora e che giorno e dove farete la consegna appunto dello strumento importantissimo? Allora, la consegna la faremo lì dove verrà collocato il defibrillatore, cioè proprio sotto il colonnato del Palazzo Municipale di Portembedocle, alle ore 18.30 di sabato 6 gennaio, quindi per l'Epifania. Abbiamo scelto proprio questo giorno anche per onorare l'Epifania e quindi la fine delle feste. Una donazione che noi vogliamo fare al Comune, sottolineando ancora una volta l'impegno di Oltreivigata per il nostro Paese. Così vogliamo continuare a fare. E' giusto anche ringraziare chi ci ha aiutato, non solo chi ha comprato il biglietto, ma anche chi ci ha aiutato a vendere i biglietti. E quindi anche parte dell'amministrazione, quindi il sindaco, Ida Carmina, il presidente del Consiglio, Mario Lucaci, buona parte dei consiglieri comunali, il segretario della CISL, Maurizio Saia. E' anche i commercianti da Empedoclini che ci hanno aiutato con i premi che hanno messo a disposizione e che anche loro ci hanno aiutato con la vendita dei biglietti. Insomma, ciò che è stato bello di questa manifestazione è la partecipazione di tutta la comunità Empedoclina, alla quale va il ringraziamento di Oltreivigata. Tutti i soci sono veramente felici e contenti di aver raggiunto questo obiettivo, di aver dato alla comunità questo strumento assolutamente importantissimo e di valore sicuramente.